Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo fottuto vlog del nuovo canale di Amor Rouge. Benvenuti. Allora, facilissimo, velocissimo vlog, come avete visto il titolo, per dirvi semplicemente come funziona il nuovo canale, nel senso che nel nuovo canale non è che posto solo i video vecchi, non è che posto solo i video nuovi, ma posto entrambi. E come fare a sapere i video vecchi e i video nuovi? Semplicissimo. Dovete, intanto stanno girando delle immagini, dovete semplicemente, questo è il sito, come potete ben vedere, vedete quella RL che c'è davanti a ogni titolo, in questo caso di Life is Strange, titolo che peraltro, come ben sapete, sto ricaricando. RL che cosa significa? Significa reload, quindi è un video che tratta di un qualcosa già caricato nel precedente canale e ad esempio Valiant Hearts, che è il gioco nuovo, non ce l'ha, ad esempio Seven Days to Die, non ce l'ha, ad esempio H1Z1, non ce l'ha questo RL. Quindi, e anche tutti gli altri che caricherò nuovi, non avranno questo RL davanti. Quindi, se trovate la scritta RL, è semplicemente un reload, cioè un ricarico del vecchio canale YouTube, sostanzialmente. In questo caso si fa Life is Strange e poi caricherò anche tutti gli altri. A che punto sono del caricamento? Beh, in effetti Life is Strange ho quasi terminato di caricare tutti e tre gli episodi, quindi siamo pronti per partire con il 4, siamo in linea di partenza. Poi sto facendo Valiant Hearts, come ben sapete, e vi consiglio di andarvelo a vedere perché è un gioco veramente bello, veramente toccante. Ovviamente questo sarà un gioco Relax Time, cioè uscirà una volta ogni tot di giorni, proprio a livello di Relax. Poi abbiamo la serie di H1Z1, ovviamente, e la nostra serie di Seven Days to Die. In più, arriveranno altre nuove serie subito sul canale nuovo. Quindi posterò sicuramente due barra tre giorni, no, non tre giorni, due o tre barra video al giorno. Proprio perché un video nuovo o due video nuovi e un video reload, oppure un video nuovo e due video reload, comunque sarà una cosa continua ed eccezionale, amici. Comunque, e quindi, e soprattutto, e sopra proprio di tutto, mi raccomando, amici, condividete i video, commentate, mettete un mi piace, insomma, amici, fate sapere che ci siete. È importante creare una comunità e meglio di voi che siete degli ottimi amici iscritti, a questo canale non c'è niente, meglio di voi non c'è nulla. Quindi commentate, condividete, mettete un bel like, il like serve ovviamente per farmi capire che vi piace quel video. I non mi piace, tra virgolette, non li vedo neanche, non mi interessa, io conto i mi piace, più o meno il fattore visual mi piace. In questo modo riesco a capire se vi sta piacendo il video oppure no. Io le serie comunque cerco di mandarle continuamente avanti, verso la fine, laddove ci sia una serie. Ad esempio, vale a hearts, mi piacerebbe arrivare fino alla fine, però se vedo che non è seguito, vedo che ci sono pochi mi piace, magari non lo tratto spesso, lo tratterò sempre un po' di meno, ma comunque cercherò di trattarlo, oppure sospenderò la serie se vedo che non è di vostro gradimento, perché sarebbe inutile registrare, renderizzare il video, editarlo prima, poi renderizzarlo, che porta via un sacco di tempo. Insomma, amici, questo piccolo vlog, eccetera, eccetera, per darvi un aggiornamento del canale nuovo. Sul canale vecchio non caricherò più nulla, ma piano piano andrò a cancellare i video che finiscono nel nuovo canale, fino a che il canale vecchio dopo esaurirà tutto i suoi video. Detto questo, amici, per questo mini video vlog è tutto, mini video vlog, aggiornamento è tutto, ci vediamo al prossimo fottuto dio. Ciao a tutti! Ciao a tutti!